Il primo motivo, non l'hai letto, altrimenti l'esposizione si è arrivata alla firmata e poi ti fa un posizione, poi ci vuoi formattare, no? Mi pare? Allora, è torto o hai ragione? Deci leggere. Deci leggere, leggi bene i tasti che si dice qui per arrivare all'installazione, alla nuova installazione. Quando si fa selezioni la partizione di cui installare un'intensità, quello lo devi leggere, non è che lo dici con la voce. Devi leggere selezioni la partizione di cui installare un'intensità, quindi ci dici, diciamo, lasciare il tasto di fai's system corrent, formatare il ntfs rapida, formatare il ntfs rapido, formatare il fai 32 rapido, formatare il fai 32. Allora,